Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRM H24, la comunità di San Marzano di San Giuseppe in lutto per la morte di Mario Pisano a seguito della strage della centrale di Suviana a Bologna. Nella stessa giornata l'incidente in cui è rimasto folgorato l'operaio Angelo Cotugno, operaio dello stesso paese, il cui sindaco dichiara ora il lutto cittadino. Vediamo. San Marzano di San Giuseppe piange due vittime sul lavoro in un solo giorno, dopo infatti la notizia del decesso di Angelo Cotugno, l'operaio morto mentre lavorava sul cantiere della regionale 8 nel tratto che collega Taranto ad Avetrana è arrivata anche la conferma dell'identità di una delle tre vittime della strage, dell'esplosione della centrale idrica di Suviana sui colli bolognesi. Si tratta di Mario Pisano, 73 anni, originario proprio di questo comune di poco meno di 8.000 abitanti. Allora noi ascoltiamo lo sgomento della comunità a partire dal primo cittadino. Una tragica coincidenza per quella che è una comunità piccola e che nel giro di un giorno addirittura vive due morti sul lavoro e ieri mattina non avevamo neanche fatto in tempo ad iniziare a elaborare il lutto brutto di Angelo e che ha lasciato una famiglia, una moglie e ben tre figli e che abbiamo ricevuto la notizia di Mario Pisani da Bologna, nel tragico evento di Bologna. Due padri di famiglia, nel caso di Mario anche nonno di ben cinque nipoti, quindi è un evento particolarmente tragico che coinvolge tutta la comunità perché di fatto erano due persone molto conosciute in paese, motivo per il quale noi stiamo valutando il lutto cittadino perché voi per questioni di parentela o di amicizia bene o male tutta la comunità conosceva o Angelo o Mario e quindi ci sembra giusto pensare a questo momento che in qualche modo li possa ricordare. Sindaco, una morte è sempre qualcosa di doloroso, una morte sul lavoro però possiamo dire che è tragica? Assolutamente, una morte è sempre dolorosa ma come dire se avviene per fatalità, per un incidente in auto è chiaramente tragico ma come dire non ci puoi fare molto, però se avviene sul lavoro nel 2024 non dovrebbe avvenire. Chi esce da casa per andare a lavorare dovrebbe tornare non soltanto vivo ma anche sano perché insomma oltre alle morti sul lavoro questo paese inteso come Italia vede ogni anno dei numeri impressionanti relativamente proprio alle morti sul lavoro e gli incidenti sul lavoro. Proprio qualche giorno fa, prima della giornata dedicata al Santo Padrono abbiamo inaugurato nella piazza del paese la panchina dell'ANMIL proprio per ricordare le vittime sul lavoro sia di incidenti mortali che di incidenti gravi. Ecco si dovrebbe fare ancora tanto e la giornata di ieri ne è un esempio plastico. Fermo restando che bisogna aspettare e capire quali sono state le dinamiche, questo è ovvio. Sitting di protesta a Taranto nella base navale Mar Grande, al fianco dei lavoratori, sindacati che denunciano senza un piano assunzioni si rischia il blocco totale delle attività. Parliamo della base navale più grande d'Italia, quella del Mar Grande di Taranto e proprio qui si rischia il collasso a causa della mancanza d'organico. Il piano di assunzioni è fermo e questo non potrà garantire le attività ordinarie. Siamo qui per richiamare l'attenzione della Marina Militare ma anche delle istituzioni di questo territorio affinché all'interno dei concorsi del Ministero della Difesa ci siano degli spazi dedicati alle assunzioni di lavoratori per la base navale che sta alle nostre spalle. Una mobilitazione nata in modo spontaneo. L'obiettivo è far capire cosa potrebbe succedere se non si procede immediatamente a nuove assunzioni. Le attività vengono sempre più esternalizzate e occorre che ci sia una presa ad atto e una presa di coscienza non soltanto degli stati maggiori che spesso ci sono vicini sebbene poi non promuovano le assunzioni ma è una presa ad atto che va fatta proprio per quanto riguarda la città di Taranto perché stiamo in sofferenza. Il problema come hanno detto altri colleghi riguarda tutta la difesa che si è più che dimezzata in questi anni. La carenza del personale andrebbe a inficiare non solo sul lavoro interno della base navale ma anche potrà avere ripercussioni su tutto il territorio. Personale che non viene sostituito, personale che non è più in condizione di assicurare il supporto operativo alle unità navali oggi reclama come già stanno facendo da tempo anche tanti altri lavoratori anche dei settori della difesa a Taranto per sollecitare una volta di più il ministero a procedere con le assunzioni necessarie in un numero che sia adeguato a quelle che sono le esigenze del supporto operativo della Marina Militare. Il caro benzina nella Basilicata ai prezzi alle stelle. Vediamo. Una stangata di primavera la Basilicata seconda nella classifica dei rincari modalità self con un prezzo al litro pari a 1,936 euro. Fa peggio solo la provincia autonoma di Bolzano. Le regioni virtuose sono invece Marche e Veneto. Lo registra l'Unione Nazionale Consumatori in un momento in cui il prezzo in Italia è ai massimi dall'ottobre scorso. Non si ferma dunque la corsa dei carburanti. Ormai al servito siamo oltre 2,10 euro. L'esecutivo fa sapere che per ora non interverrà. Esiste già una disposizione che in relazione a modifiche dei prezzi fa scattare un adeguamento. Se si verificano le circostanze previste partirà. È evidente a tutti che il prezzo della benzina non dipende dalle decisioni del governo, ha dichiarato il ministro dell'economia Giorgetti. Ma perché questi aumenti? La ragione è legata all'aumento dei prezzi delle materie prime con il greggio che ha superato i 90 dollari al barile. Incidono poi i fattori geopolitici e il carico fiscale in un momento in cui la domanda di carburanti sui mercati occidentali cresce per motivi stagionali. Per Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, si tratta di un rialzo allarmante che rischia di accendere ulteriormente l'inflazione che già a marzo è schizzata all'1,3% dallo 0,8 di febbraio. La Sanità Radiologi da Napoli per abbattere le liste d'attesa ha siglato un accordo con la Facoltà di Medicina Partenopea e l'Azienda Sanitaria di Potenza. Vediamo. Potenziare le attività di radiologia a partire dal prossimo mese di maggio in tutti i presidi dell'Azienda Sanitaria di Potenza grazie a una convenzione stipulata tra l'ASPA Basilicata e la Facoltà di Medicina dell'Università Federico II di Napoli. Un'equip di radiologi si sposterà dalla campagna nel Potentino con l'obiettivo dunque di abbattere le liste d'attesa, recuperare le prestazioni non erogate e riordinare il sistema radiologico. Si comincerà dal Poliambulatorio di Potenza, maggiormente interessato dalla carenza di dirigenti medici, per poi operare su Chiaromonte e Venosa. Nel primo trimestre dell'anno al Poliambulatorio di Potenza sono state effettuate 456 TAC 98 all'ospedale di Chiaromonte e 73 a Venosa, 288 le risonanze magnetiche nel capoluogo. Con la convenzione saranno garantite 3.500 ore in più tra risonanze magnetiche e TAC con e senza mezzo di contrasto, significa fino a 220 prestazioni al mese, 2.000 in un anno. L'ASPA ricorda poi che a causa del blocco informatico di inizio anno le prestazioni radiologiche saranno recuperate a chiamata. Il 172esimo anniversario per la Fondazione della Polizia di Stato, vediamo le celebrazioni a Bari. Un decremento delle chiamate al 113 è un numero maggiore di interventi per gli agenti delle volanti e quanto emerge dai dati diffusi in occasione del 172esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Le celebrazioni si sono svolte nel Teatro Nicolò Piccini di Bari alla presenza delle più alte cariche istituzionali, civili, religiose e militari. Il questore di Bari, Giovanni Signera, ha evidenziato l'aumento del numero delle persone controllate dalla Polizia nell'intera area metropolitana di Bari. Il dato statistico sulla delittuosità ha segnato inoltre nell'intera area metropolitana una diminuzione dei reati segnalati all'autorità giudiziaria, così come nella città di Bari il dato ha registrato un meno 5%. Noi dobbiamo attestarci a quelli che sono dei dati. Li ho citati brevemente durante il mio discorso. Il fatto che siano diminuite le chiamate al 113 secondo me è un indicatore. Il fatto che siano diminuiti alcuni reati, i reati soprattutto contro il patrimonio. È vero che c'è stata una concentrazione in alcuni periodi dell'anno. Soprattutto nella prima parte dell'anno abbiamo avuto quel problema delle aggressioni da parte di minorenni in alcuni parchi e me le abbiamo contrastate immediatamente. Un riferimento anche al fenomeno delle spaccate in centro città si tratta infatti di furti e i danni di esercizi pubblici e commerciali che si sono concentrati nei primi mesi del 2023. La polizia ha consentito di ridurre il fenomeno con l'arresto di 5 persone. Per quello che riguarda le spaccate che hanno avuto così tanto clamore negli organi di stampa nel momento in cui abbiamo arrestato sia nella prima parte della primavera i responsabili e poi nell'ultima parte dell'anno un soggetto al quale abbiamo addebitato 7 episodi di spaccata sostanzialmente si sono interrotti questi episodi. Oggi abbiamo celebrato l'anniversario dei 172 anni della Polizia di Stato. Polizia di Stato che ha aiutato questa città in questi anni insieme alle altre forze dell'ordine della magistratura a fare questo percorso anche di riscatto, un percorso che ha permesso di decapitare la stragrande maggioranza dei clan criminali che sono presenti nella nostra città. A Matera doppio concerto dedicato a Beethoven, ieri e oggi nel santuario di San Francesco da Paola s'iniziativa della Camerata delle Arti. La stagione concertistica della Camerata delle Arti dedica un concerto speciale a Beethoven. L'esecuzione integrale delle sonate pro violoncello e fortepiano è proposta in un doppio appuntamento in programma ieri e oggi alle 20 nel santuario di San Francesco da Paola a Matera. Protagonisti, due solisti di assoluto rilievo in campo internazionale, Roberto Traenini al violoncello e Stella Pantoriero al fortepiano. Abbiamo diviso l'integrale delle sonate e delle variazioni del pianoforte e violoncello di Ludwig van Beethoven in due parti. Quella di stasera è dedicata alle opere fino al 1798, quelle del XVIII secolo. che richiedono un particolare tipo di fortepiano e hanno una timbrica più mozartiana che quella del vero Beethoven. Quelle di oggi invece sono dedicate all'ultimo ciclo di variazioni, la terza e la quarta e la quinta sonata, opere del periodo mediano di Beethoven e dell'ultimo periodo. Sono opere del primo ottocento e hanno una scrittura tipicamente metoveniana e a volte estremamente moderna. La formazione protagonista di questo concerto sarà violoncello e fortepiano, uno strumento che può essere considerato l'antenato del pianoforte, diciamo consideriamo fortepiani tutti gli strumenti fino al 1850. A differenza del pianoforte, il fortepiano è interamente costruito in legno, mentre nel pianoforte già troviamo la ghisa nella cassa armonica e la meccanica è diversa, i martelli sono rivestiti in pelle e anche ovviamente la sonorità è diversa. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi.